ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare di asicola che mi ha gentilmente inviato questa mini borsetta vintage sicilia bedda è un elegante borsetta che è perfetta per qualsiasi occasione è un capolavoro artigianale perché è stato realizzato in cotone di alta qualità e rifinito con occhielli doppia catenina per un tocco di stile in più come possiamo vedere la borsa si chiude con una zip all'interno troviamo una fodera trapuntata per garantire la massima sicurezza e protezione dei nostri oggetti che metteremo all'interno ha un design unico di un stile vintage che ha un grande fascino è davvero molto carina questa borsetta molto capiente come potete vedere inoltre io l'ho scelta così color pan ma possiamo trovare altri colori a una dimensione di 30 x 18 centimetri e niente ragazzi vi lascio qui sotto il sito dove potete acquistare le altre creazioni da parte dell'azienda asicola grazie ancora